Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Sono veramente buonissimi perché sono alla ricotta, sono super morbidissimi. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con la vostra Raffi alla grande. Ragazzi guardate un po' oggi una ricettina veloce. Sto parlando dei muffin magici senza farina che si fanno in un batter d'occhio alla ricotta e si vanno a fare anche se volete in frigitrice d'aria. Poi se non avete la frigitrice d'aria ovviamente andiamo ad usare il forno. Allora partiamo subito con la nostra ricettina. Come già in questo mixer ho inserito 230 grammi di ricotta di mucca. Poi andiamo ad inserire un uovo, intero ovviamente. Ci andiamo ad inserire 25 grammi di erettritulo e poi andiamo ad inserire 15 grammi di amido di mais. Fatto questo inseriamo il coperchio, inseriamo il mixer. Ebbene ragazzi, una volta che è diventata così, guardate la nostra cremina è diventata, adesso inseriamo anche un po' di gocce di cioccolato. Un 20 grammi secondo me vanno bene. Andiamo ad amalgamare il tutto. E adesso prendiamo degli stampi. Ebbene abbiamo preso degli stampi, guardate io, a forma di rosa, di fiorettino. Adesso ci inseriamo un po' di staccante e andiamo ad inserire un cucchiaio dentro ogni stampo. Ebbene ragazzi, abbiamo riempito i nostri pirottini. Adesso li ho messi in frigifrice d'aria, siamo pronti ad infornare. Ebbene adesso mettiamo a 180 gradi per 13 minuti. Ebbene, una volta cotti i nostri muffin magici alla ricotta, adesso un ingrediente per arricchire il nostro muffin. Ebbene, andiamo a prendere un 30 grammi di cioccolato fondente, raga. L'abbiamo sciolto o a bagnomaria o nel forno a microonde e adesso lo andiamo a spalmare sopra. Ebbene, una volta che l'abbiamo inserito nel nostro cioccolato fondente, adesso vediamo internamente come sono. E sono veramente buonissimi perché sono alla ricotta, sono super morbidissimi. Detto questo, non ci rimane che mangiarceli, raga. E niente che dirvi, ci mi raccomando di spolliciare alla grande, mi raccomando di iscrivervi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao dai vostri muffin magici.